Molise a calci in collaborazione con design, stile e comfort nel nuovo showroom di D'Amico Arreda sulla superstrada Trignina-Isernia-San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Buonasera e ben ritrovati con un'altra puntata di Molise a calci, la seconda del mese di settembre dopo 180 minuti in serie di un bilancio che è assolutamente sommario, quelle delle molisane di quarta serie ma che possiamo considerare discreto, il Campobasso in due partite ha fatto 4 punti, Lagnone ne ha fatti 3 ieri ha incappato in una sconfitta in quel di Fabriano, Fabriano che sarà la prossima avversaria a Selvapiana proprio del Campobasso, i Rosso-Blu di Foglia Manzillo hanno battuto un avversario non semplice vale a dire quella Monticelli che la squadra classicamente dura del Girone F lo hanno fatto tra le proteste della squadra di Stallone quindi analizzeremo questi temi e oltre nel corso della trasmissione anche perché proprio ieri è iniziato il campionato di eccellenza anche quello di promozione, dunque puntata davvero ricchissima di commenti, di interviste, di servizi la Moviola, ospiti e un buonasera e ben ritrovata alla nostra compagna di viaggio per questa stagione di Molise a calci buonasera a te Cecilia Di Lauro buonasera Gianni, ancora una volta buonasera anche per questo lunedì, buonasera ai nostri ospiti e naturalmente buonasera a tutti quanti i nostri amici che ci seguono dal Lazio compresa Roma al canale 880 dall'Abruzzo al canale 96, dal Molise al canale 11 ed anche con lo streaming al sito www.telemolise.com per tutti quanti gli altri che non si trovano in queste regioni e che hanno il piacere di seguirci tra l'altro mi hai detto che lunedì scorso ci hanno seguito dal Brasile ci hanno seguito dal Brasile e addirittura, pensa Gianni, il nostro direttore Antonio Di Lallo è stato salutato durante una puntata di Domenica Sport dall'Argentina perfetto, noi lo vediamo, a Domenica Sport passano i messaggi, quindi leggiamo i saluti non accade la stessa cosa qui a Molise a calci, però abbiamo avuto tramite te testimonianza di questo saluto dal Brasile appunto nella settimana che ha preceduto questa seconda puntata stagionale di Molise a calci allora sono curioso di sapere gli ospiti, però prima ti faccio i complimenti per il tuo outfit si dice così outfit, giusto? si dice outfit, naturalmente anche oggi io ringrazio la signora Pina Graziano dell'Atelier Smeralda voglio ringraziarla perché naturalmente come sempre mi ha fornito un outfit davvero fantastico e anzi invito tutte quante le nostre amiche a recarsi in atelier che è sito in piazza Pepe a Campobasso dove la signora Pina saprà consigliarvi sicuramente qualcosa che farà al caso vostro Gianni permettimi anche di fare i complimenti a te per il tuo outfit meraviglioso, questa sera di scuro ti ringrazio, ti ringrazio, io diciamo l'outfit non ha sponsorizzazioni, insomma questo per inciso lo diciamo comunque ti ringrazio per gli apprezzamenti siamo qui stasera, abbiamo il piacere di avere con noi in questo salotto meraviglioso di Molise a calci l'allenatore Carmine Rienzo e poi Niccolò Manfredi Selvaggi, studente per ora ma un futuro fisico, matematico e ingegnere va bene, buonasera ad entrambi, Carmine è un piacere buonasera, piacere mio grazie Niccolò buonasera grazie per l'invito e ti ha definito, come ha detto Cecilia? un ingegnere fisico-matematico, a scelta allora, Niccolò è uno studente campobassano che risiede per motivi di studio a Torino con una schiera di tanti ragazzi campobassani che studia a Torino che cosa? io studio ingegneria fisica al Politecnico di Torino al secondo anno ecco, e sei stato protagonista insieme a altri tre ragazzi, quindi un gruppo di 4-21 anni di un progetto che si chiama? si chiama DroneLab DroneLab, in che cosa consiste? Brevemente e poi ne approfondiremo nel corso della trasmissione il progetto tratta della guida autonoma di droni, quindi abbiamo preso un drone, abbiamo tolto il pilota umano per farlo guidare da solo tramite il computer innovativi? si, abbastanza innovativi, anche e soprattutto perché abbiamo fatto questo progetto con piccoli budget senza ricorrere a spese elevate, come si fa invece ad alti livelli, come fanno le aziende multinazionali perfetto, allora Cecilia, questa è soltanto una premessa, perché a noi piace mettere in evidenza nelle nostre trasmissioni oltre a tutto il materiale sportivo, umano sportivo e non solo, anche i giovani molisani che si distinguono per bravura, capacità, abilità così come Niccolò Manfredi Selvaggi ha fatto una brevissima premessa, poi approfondiremo i temi a lui legati nel corso della trasmissione allora Carmine Rienzo, dicevo, inizio non male per le molisane di quarta serie, Agnone e Campobasso Sì, stanno facendo bene tutte e due, anche se l'Agnone ieri dai servizi che ho visto ha giocato bene il primo tempo e malissimo male il secondo, comunque sono partite col piede giusto, stanno dicendo la loro e questo è molto positivo per tutto il calcio molisano Campobasso lo hai visto a distanza tramite la nostra emittente, la prima giornata diciamo che ha pareggiato in casa contro la San Giustese anche meritato da parte della San Giustese, ieri non era facile spugnare il campo, io l'ho definito classicamente ostico Monticelli lo abbiamo visto tante volte, ma è una squadra difficile da battere Sì, è una squadra difficile dove mister Stallone prepara le gare molto bene, quindi anche su un campo piccolo perché ricordiamo che il campo di Castel di Lame è un po' più piccolo rispetto agli altri, quindi hanno fatto un ottimo risultato Sarà assente Ingretolli domenica prossima a Selvapiana contro il Fabriano che è capolista però è un termine questo capolista davvero da prendere con le molle, ci sono tre squadre al vertice vale a dire tre squadre che nelle prime due giornate di campionato hanno vinto e sarebbe potuto essere tra queste anche il Campobasso, ecco ricordiamo che la San Giustese ha pareggiato davvero nei minuti di recupero, con merito, questo tengo a sottolinearlo Allora, Nicolò, a Torino da pochissimo, da quanti anni? Sì, è il secondo anno È il secondo anno, quindi sei da poco Lì, com'è nato questo Drone Lab? Sì, il progetto è nato quando ho conosciuto dei miei colleghi alla Residenza Universitaria Campus che è il collegio universitario dove appunto abitiamo e che ci ha consentito di sviluppare questo progetto La nostra intenzione era quella di applicare la nostra tecnologia di automazione ai droni I droni sono dei veicoli telecomandati, quindi c'è un uomo che comanda tramite un radiocomando il drone che vola quindi è l'uomo a decidere dove mandare il drone Noi abbiamo avuto l'idea di togliere il pilota umano per consentire al drone di volare da solo Quindi per fare questo abbiamo dovuto utilizzare un pianto sensoristico avanzato da montare sul drone e un algoritmo di automazione situato su un computer che comanda il drone tramite bluetooth Allora perfetto, per me è arabo, quindi l'arabo penso sarebbe stato più comprensibile Però, allora, qual è la miglioria portata con questa vostra scoperta, nel senso con la guida non umana? Ok, la guida autonoma ha delle applicazioni importanti Basta pensare per esempio a dei siti soggetti a delle tragedie come dei terremoti e gli uragani in cui c'è bisogno di cercare dei dispersi, quindi dei luoghi in cui l'uomo non può recarsi Un drone con guida autonoma tramite i giusti sensori potrebbe svolgere questo compito Quindi l'obiettivo è cercare di produrre questo tipo di droni che a basso costo possono essere impiegati per questo tipo di utilizzi ed è solo un esempio questo Solo un esempio tra l'altro calzante, quindi abbiamo capito sicuramente al volo quello di cui ci stai parlando Dobbiamo anche dire che la differenza sostanziale è che questa vostra innovazione si basa su aspetti finanziari Perché non è una vostra scoperta, una scoperta tua e degli altri tre ragazzi Ecco, non diciamo i nomi, oppure se voi li possiamo dire, diciamo l'origine di questi ragazzi Sì, sono Matteo Guarera, Francesco Monaco, Riccardo Zaccone, sono provenienti da tutta Italia Abbiamo due siciliani, un calabrese e un molisano Ok, quindi dove la miglioria diciamo dal punto di vista economico, il vantaggio? A livello di sperimentazione questo tipo di dispositivi sono già stati creati però utilizzando dei sistemi molto costosi Quindi questo rende il drone poi non vendibile, non si può mettere in mercato una cosa molto costosa Quindi noi abbiamo cercato di utilizzare strumenti poco costosi per avere le stesse funzionalità dei prototipi già creati da grandi aziende milionari Diciamo che il vostro è più alla portata, più commerciabile il vostro drone Perfetto, allora complimenti Continueremo a parlare di questa vostra scoperta e questa vostra avventura al Politecnico di Torino Gianni, permettimi di fare una domanda a Niccolò, un po' meno tecnica, parliamo un po' più italiano adesso Volevo chiederti, il tuo è stato ed è tuttora un percorso universitario, del resto molto impegnativo Stai studiando ingegneria per cui insomma capisci bene che è davvero molto impegnativo Come si fa a conciliare un percorso del genere con una scoperta, quale quella che hai fatto tu, altrettanto impegnativa? A me sembra impossibile Il trucco secondo me è la passione Io faccio questo, io sia studio per l'università sia applico a queste cose È come se fosse una passione, quindi un gioco Perciò riesco sempre a ricavare il tempo E poi c'è anche da dire che quello che studio all'università e quello che faccio fuori sono collegati Quindi molte volte studio entrambe le cose contemporaneamente Quindi tanta passione, tanto entusiasmo E diciamo che si vede proprio da come lo racconta Niccolò Manfredi Selvati Sì, c'è molta passione nelle sue parole E quindi presto spiegata la tua legittima e più che giustificata domanda Cecilia Allora cercheremo di collegare la tua scoperta al calcio perché già ho trovato il nesso Carmine noi andiamo a sentire Nico Stallone, tu lo hai nominato nella tua risposta Nel lancio che ci fa la nostra Cecilia Sì, adesso ai nostri microfoni l'allenatore del Monticelli Nico Stallone Mister Stallone è successo tanto, soprattutto nella seconda parte di gara Una partita che non accennava a sbloccarsi C'è voluto un angolo e il colpo di testa di Danucci Da lì sono successe tante cose, rigore, espulsione Lei da cosa vuole cominciare? Ma no, io comincio che sicuramente il risultato, io dico sempre, nel calcio è quello che conta Quindi il Campobasso ha vinto, onore al Campobasso, questa è la premessa Noi veniamo purtroppo da un momento difficile dopo aver fatto una preparazione fantastica Un precampionato ottimo, siamo inanellati nel giro di una settimana, dieci giorni In una serie di infortuni traumatici e di qualifiche che hanno condizionato un pochino L'equilibrio di questa squadra che è fondamentale Scusi se la interrompo, sembrava davvero difficile perforare la sua squadra ad un certo punto Quindi che questo 0-0 non riuscisse a sbloccarsi Al di là poi degli episodi, è successo tanto alla fine Però merito a voi perché siete la solita squadra tignosa, chiusa, che sa ripartire E quindi il Campobasso ha faticato non poco per bucarvi Ti ringrazio di questa cosa che ci conforta Perché noi su queste basi abbiamo creato i bei campionati di questi anni Dobbiamo ripartire da lì, chiaramente come ti dicevo Non abbiamo avuto la possibilità in queste due partite di schierare la nostra difesa I nostri equilibri e quant'altro Però oggi come tu hai detto, a parte qualche tiro da lontano Non avevamo avuto altre palle dove avevamo rifchiato E invece se mi permetti c'è stato un momento Forse che eravamo tirati fuori un po' dal guscio Sembrava quasi che potessimo fare qualcosa in più Però ripeto, in bocca al lupo al Campobasso E poi è chiaro che quando si perde è da sempre fastidio Quindi la tensione finale fa parte del calcio Bisogna anche saper vincere, qualche ragazzo probabilmente non ha saputo fare Però voi sapete, nei confronti del Campobasso c'è stima e affetto Quindi in bocca al lupo Dall'altra grazie per le parole che hai detto E speriamo che siano per fare l'ennesimo miracolo a Goviftano Sportivo, Nico Stallone in bocca al lupo Al Campobasso c'è amicizia tra le stima? Con il Campobasso, anche hai detto qualche ragazzo mio Non ha saputo vincere, Carmine Sì, vabbè, sono due parti Al di là della bravura dell'allenatore Sono due partite che anche la partita scorsa a fine gara È successo, ha avuto un paio di espulsi il Mondicelli Quindi da questo punto di vista devono stare un po' più calmi E anche ieri con la partita col Campobasso Alla fine si è accesa quella mezza mischia che poi ti porta fuori degli uomini Perché ci sono stati degli espulsi Sì, Monticelli due ne ha avuti di Rossi all'Aquila Uno ieri che salterà quindi evidentemente la prossima partita Il capitano Sosi ma Stallone ha protestato anche per il calcio di rigore Che poi rivedremo alla Moviola dato al Campobasso E che è valso il 2-0 parziale Allora possiamo vedere un'occasione in particolare Strapolata dal servizio E che riguarda proprio Monticelli-Campobasso Un'occasione diciamo clamorosa Però poi avremo il piacere di analizzarla con i nostri ospiti Vedete il Campobasso che fa girare il pallone C'è questo tiro di vecchione Il classe 99 Rinaldi che ribatte centralmente Vedete si fiondano due del Campobasso E manda fuori Gurma Cosa ti viene da dire Carmine? Come commentare? Erano due giocatori del Campobasso Entrambi in posizione regolare Vale a dire Gurma Quello che ha sbagliato E D'Agostino dietro di lui Entrambi sono stati bravi a farsi trovare là Poi è stato sfortunato Forse se la lasciava D'Agostino Però in quel frangente là Non è che puoi decidere Un attimo di secondo E decidi di calciare Ha calciato subito Quindi è stato anche sfortunato Penso che non l'abbia presa bene la palla Nicolò Rivedendo questa azione del Campobasso Nel primo tempo di Monticelli Penso che la palla è rotonda Quindi molte volte conta anche la fortuna E come già detto prima Un millesimo di secondo può essere importante Cecilia Che considerazione ti viene da fare Vedendo quella Sì sono d'accordo In fondo è anche un millesimo di secondo Che può contare Ed è quello che poi Ha contato alla fine Quindi sì sono d'accordo Allora lo abbiamo chiesto ai nostri ospiti Lo abbiamo chiesto a te Cecilia Ma lo abbiamo chiesto anche a chi? Lo abbiamo chiesto anche a Mario Gurma Al diretto interessato Esattamente Come hai fatto Mario Com'è che hai fatto Mario? Vediamo Mario Gurma 2 a 1 In favore del Campobasso Tanto morale Tre punti in classifica Quattro in due partite Ed una maglia da titolare per te Te l'aspettavi? Ma io Innanzitutto Voglio fare il complimenti ai nostri tifosi Che sono venuti fino a qua Anche se era una partita a porte chiuse Diciamo che sono riusciti a trovare Lo spiraio giusto? Sì sì Era inaspettato per noi Comunque speriamo che domenica prossima Vengono a darci una mano in casa E quello che riguarda la partita Per noi era una partita Diciamo fondamentale questa Anche se ancora Siamo all'inizio del campionato Però come è andata La settimana scorsa Che ci hanno raggiunto alla fine C'è rimasto Ramarico in bocca E comunque anche tanto veleno Hai avuto tu stesso una palla buona Nel primo tempo In che cosa hai difettato? Ma lì sono Comunque era una palla Che io sono arrivato in scivolata C'era D'Agostino dietro di me Che comunque Ho sentito io Però in aria Magari Se lui mi chiamava D'Agostino O Stefano Io l'avevo lasciata quella palla lì Perché comunque Era una palla che ha attaccato Però non era al 100% mia Io l'ho attaccata In scivolata E l'ho presa male Che comunque le condizioni del campo Quelle che erano E poi mettiamoci che il Monticelli È una squadra difficile da scardinare Ma veramente A me mi è piaciuto tantissimo Questo Monticelli Io penso che loro Mettendo lo stesso agonismo Lo stesso entusiasmo E facendo vedere le cose Che hanno fatto vedere Oggi contro di noi Tutto il pathos E Penso che sarà difficile Per ogni squadra Passare da questo campo Ecco ti dico Non lo so se lo sai Però lo dico per esperienza personale Il Monticelli È la classica squadra Del girone F Proprio militante Nel girone Abruzzese Marchigiano Molisano Quindi sono su questa falsa riga Le formazioni A me mi ha fatto Una buona impressione Una squadra organizzata Che cercava di fare Il suo gioco Ma Nel frattempo Era molto ostica Noi abbiamo dimostrato oggi Che abbiamo anche questa faccia qui Che siamo una squadra Che non mola Che noi non vogliamo molare Non vogliamo lasciare Neanche un centimetro in campo Vogliamo lottare Fino alla fine Tutte le partite In tutte le condizioni Per affrontare E avere un campionato Che ci può dare delle soddisfazioni Allora fine partita Poi lo sentiremo Nel corso dei nostri telegiornali sportivi È intervenuto anche Ribeiro Il quale ha detto Gioco come quinto a destra Carmine Ma non è il mio ruolo Il mio ruolo è una seconda punta Questo lo sapevamo anche Dal momento della campagna acquisti Andandoci a documentare Su Gabriel Ribeiro Di origini brasiliane Questo può far presumere Che i dirigenti del campo basso Potrebbero intervenire Ancora sul mercato In attacco A sensazione Sì Penso che Comunque da quello che ho visto io Manca una prima punta Al campo basso Quindi Penso che alla fine Troveranno un esterno sinistro E sposteranno Ribeiro Nel proprio ruolo Comunque Sta facendo bene Dobbiamo fargli complimenti Perché sta facendo bene Anche in un ruolo non suo Questi risultati Del Girone F Maturati per la seconda giornata Come vedete Sorprende il San Nicolò Che praticamente rimedia La seconda sconfitta consecutiva San Nicolò Che quest'anno Non giocherà più a Teramo Bensì a Morrodoro E il Nero Stellati Che gioca a Sulmona Ne ha prese Sette Dal Francavilla Possiamo andare a vedere Cecilia Abbiamo detto Le capolista Del Girone Però è relativo Questo dato Sono Vispesaro Vispesaro Con sei punti Fabriano Fabriano Cerreto E Matelica Queste sono Però sono due vittorie In due partite Quindi Conta relativamente Presumo che sia un girone Molto equilibrato Dove Alla fine Se la giocheranno Il Campobasso L'Aquila Che Ieri Secondo me Hanno perso Il primo sconto diretto Vispesaro Vispesaro L'Aquila Quindi Penso che alla fine Se la giocheranno loro Queste Saranno queste Queste 4-5 squadre Che giocheranno Per la vittoria del campionato Tra l'altro All'Aquila Ha segnato Anche ieri Boldrini Che un ex Campobasso Aveva segnato All'esordio Contro Appunto Il Monticelli Allora Nicolò Sei anche un tifoso Del Campobasso Sì A distanza Da Torino A distanza Tra l'altro Hai fatto anche esperienza Nella Chaminade Quando eri qui A Campobasso Nella Juniores Credo Ho giocato Nella Juniores E nell'Under 21 A calcio a 5 Sì Stai seguendo da lontano La Chaminade Il Campobasso Sì Da quando sono via Un po' di meno Però la Chaminade Comunque fa parte Della mia esperienza formativa Infatti quello Che ho usato nel progetto È stato anche il lavoro Di squadra Con i miei colleghi Che mi sono insegnato Anche nello sport Nella Chaminade Quindi ti è Stato utile Certo Non servono solo Conoscenze matematiche Ma anche saper Lavorare insieme Anche altre persone Tra l'altro Cecilia Dobbiamo dire Che un ringraziamento Particolare A Nicolò Perché praticamente È stato a Torino Qualche giorno fa Per un esame Che è andato bene Credo Non avevo dubbi Ed è sceso Tra gli altri motivi Anche per partecipare A Molise a calci Sì Per me è un onore Essere qui Quindi non ho Esitato a prendere il treno E precipitarmi Di nuovo qui Addirittura Ti sei proprio precipitato Sì perché domani Riparto Che è un altro esame Quindi sto viaggiando molto Tra un giorno e l'altro In questo periodo Perfetto Domani che esame hai? Dopo domani Fisica quantistica Una cosetta semplice Semplice Diciamo una passeggiata Di salute Una passeggiatina Semplice proprio Diciamo prima di fisica quantistica Faccio una capatina A Molise a calci E poi vado a fare Fisica quantistica Allora domani In treno Potrai ripassare Ma non credo Che avrai bisogno Di ripassare Ma otto ore di treno Non si sa che fare Quindi magari Una ripassatina ci sta Quindi otto ore di treno Ragazzi Non è che proprio Una passeggiata Allora Noi ritorniamo Dove? A Castel di Lama Dove ha diluviato Però poi Il diluvio Ha lasciato il posto Si è fermato Si è fermato per fortuna Per fortuna Si è fermato Prego E adesso è il momento Della nostra immancabile Moviola A cura del direttore Antonio Di Lallo In collaborazione con Carburanti e lubrificanti Paglione Carburanti agricoli E per autotrazione Lubrificanti mobile Kuwait Oli motore Oli idraulici Oli per trasmissione Cambi e differenziali Ora Nella nuova sede Di Contrada Iontapede Nella zona industriale Campobasso Ripa Limosani Carburanti e lubrificanti Paglione Dal 1952 Ci prendiamo cura Del tuo motore Con le immagini Siamo alla partita Monticelli Campobasso Siamo al secondo minuto Di gioco C'è un fallo Presunto in aria Di Capozzi Difensore del Campobasso Con la maglia rosso-blu E guida Attaccante del Monticelli Seguiamolo insieme Al nostro regista Donato Mignogna Ma vediamo Le immagini rallentate Praticamente È un normale Contrasto di gioco Anzi Ci sembra Francamente Che sia piuttosto guida A lanciarsi Non appena Sente il contatto Con il difensore Rosso-blu A nostro avviso Ha fatto bene L'arbitro A lasciar proseguire Perché qui Non ci sembra Che ci fosse qualcosa Discorretto Da parte del difensore Del Campobasso Capozzi Mezz'ora del primo tempo Ancora una protesta Da parte del Monticelli Per questo fallo Del numero 3 Con la maglia rosso-blu Si tratta di elefante Su guida Ma Dobbiamo tornare Un attimo dietro Perché A velocità normale Poteva sembrare Effettivamente Che ci fosse Fallo In realtà L'arbitro Era posizionato Molto bene Anche se non si vede Nelle immagini Vediamo quando S'avvicina Elefante Perché vedete Elefante Allunga il piede sinistro Per contrastare L'avversario Ma il piede sinistro Di elefante Batte Praticamente A terra Vedete Non c'è l'impatto C'è proprio distanza Tra il piede sinistro Di elefante E il piede destro Di guida Quindi Poi È chiaro Se torniamo Un attimo dietro Diciamo È chiaro Che poi Guida Si lanci Perché In sostanza Il numero 3 Del campo basso Elefante Non si poteva Smaterializzare Ma non c'era Ecco vedete Il piede di elefante A terra A questo punto Guida Si lancia In tuffo È chiaro Che c'è il contrasto Tra la gamba sinistra Di elefante E la gamba sinistra Di guida Ma l'arbitro A nostro avviso Qui ha fatto benissimo L'arbitro Il signor Monaco Di Termoli Ha fatto benissimo Ad ammonire L'attaccante Del Monticelli Per simulazione Perché Non c'era Assolutamente Nulla Da parte Del difensore Rosso Il calcio Di rigore Che poi Ha deciso Per il campo basso Parte da un rinvio Del portiere Del campo basso C'è Vedete L'errore Con la coscia Fermiamoci un attimo Perché Sicuramente Terrenzio Numero 5 Con la maglia Bianco blu Favorisce L'azione Del campo basso Vedete Con la coscia Manda il pallone In avanti A questo punto È molto bravo D'Agostino Ad inserirsi Vedete Il portiere Che esce Qui dobbiamo andare Veramente piano Perché Anche qui A velocità normale Sembrava che Il portiere Avesse colpito Il pallone Ci avviciniamo Insieme Al nostro regista Anche con la lente Di ingrandimento Vedete Il portiere Che non colpisce Il pallone Lo manca E va a colpire Nettamente Il piede destro Di D'Agostino D'Agostino Probabilmente Potrebbe aver compiuto Anche Un fallo Di gioco Pericoloso Ma l'arbitro Qui ha visto La manata Sui piedi Sulla gamba Sinistra Di D'Agostino E quindi Ha concesso Il calcio Di rigore Però Quello che possiamo Assolutamente Escludere È che Il portiere Rinaldi Del Monticelli Abbia colpito Il pallone Perché Colpisce Invece Soltanto La gamba Sinistra Di D'Agostino Poi se andiamo avanti Con le immagini Vediamo anche La battuta Del calcio Di rigore Vedete Ammonito Il portiere Rinaldi Poi dagli Poi dagli 11 metri Ha segnato Il secondo gol Per il campo Basso D'Agostino Qui siamo Al 47esimo Del secondo tempo Viene espulso In Gretolli Allora Ricostruiamo Perché In Gretolli Ha un contrasto Di gioco Vedete Con il numero Il numero 11 Del Monticelli Poi però Si continua A giocare Vedete Il pallone Che rimbalza Fra In Gretolli Numero 20 Del campo Basso E Cichella I due Vanno al contrasto Vedete Cichella Che cadendo Sferra Un calcione A In Gretolli Si rialza E In Gretolli Gli mette la testa Sulla testa E quindi Evidentemente Probabilmente Commette anche Un fallo Poi Si trattiene Si spintona Con il numero 4 Sosi E quindi Entrambi Poi vengono Espulsi Dal direttore Di gara Insomma Non è stato Un episodio Edificante Della partita Soprattutto In Gretolli A nostro avviso Sul risultato Di vantaggio Per il campo Basso Poteva Anche Evitare Ed evitarsi Questa espulsione Che sicuramente Danneggerà Il campo Basso Allora Io partirei Dal calcio di rigore Del 2 a 0 Tanto discusso E incriminato Dal Monticelli Carmine Lo abbiamo davvero Spolpato Questo calcio di rigore Ma beh Il rigore Ci sta Tutto Ci sta Quindi Ripetendo le immagini Della moviola Del direttore Conferma ancora I dubbi Che avevo prima Quindi Cioè non i dubbi La certezza Che avevo prima Che era rigore Nicolò Non edificante Abbiamo detto Questa rissa Nel finale Sul 2 a 1 Per il campo Basso E mancava Un minuto Esatto Alla fine Sì Assolutamente Nello sport Non dovrebbe essere Così Ma Non rispecchia I valori Di quello che Dovebbe essere Il calcio Anche il rispetto Nei confronti Degli altri giocatori Il mio allenatore Diceva In campo Siamo avversari Ma fuori dal campo Siamo amici Senti Il Monticelli Ha protestato Pure per l'espulsione Del numero 4 Sosi Lo vedi coinvolto O meno Dalle immagini Che si sono viste No secondo me Anzi Lui voleva Appunto Cercare di risolvere La situazione Ma purtroppo L'arbitro Non ha gli occhi ovunque Quindi Ha espulso tutti e due Cecilia Ha simulato Il calciatore Del Monticelli Dopo il tocco di Elefante Il secondo episodio Che abbiamo visto Io penso proprio di sì Quindi giusto Insomma Alla fine Andando a fare il sunto Monaco di Termoli Ha fatto evidentemente Una buona partita Diretto Una buona gara A Castel di Lama Monticelli Campobasso Noi cosa facciamo adesso Cecilia Noi adesso Tiriamo per qualche istante Remi in barca Però pochissimo Quindi rimanete con noi E non cambiate canale A tra poco Sempre qui Nel salotto di Molise a calci Molise a calci Eccoci di nuovo A Molise a calci Allora Nicolò Manfredi Selvaggi Campobassano Che studia A Torino Con il progetto Uno dei fautori Del progetto Drone Lab I droni Nel calcio Hanno una loro Rilevanza Ecco Io credo di sì Perché Vedevo per esempio La preparazione del Napoli Degli ultimi due campionati Se ne serve Con un discreto profitto Maurizio Sarri Allenatore Del Napoli Sì I droni possono essere utilizzati Come degli occhi Da applicare dove l'uomo Non può arrivare Quindi Immagino anche in una partita di calcio Immaginare un futuro In cui i droni Possano anche fare delle moviole E riprendere la partita Non è da escludere Potrebbe servire questa vostra scoperta Anche agli allenatori di calcio Perché poi ovviamente L'utilità qual è? Riprendere gli allenamenti E mostrarli ai giocatori Giusto? Sì La nostra scoperta Diciamo È fatta molto in piccolo Siamo ancora agli inizi Però diciamo In un modo o nell'altro Potrebbero essere utilizzati Soprattutto con un algoritmo Di automazione Che gli permette Di andare in campo Senza bisogno Di un pilota Ti vedo calatissimo Nell'argomento Ma Che cosa vuoi fare Da grande Non perché adesso Dici Ma che Mica sono piccolo Però Sei al secondo anno Di studi Universitari Hai un particolare sogno Nel cassetto Dopo Ecco Questa avventura Può averti cambiato In qualche modo La vita Sì Diciamo Un sogno nel cassetto Già prefissato No Però queste avventure In cui mi sto buttando Mi stanno formando Anche il pensiero Quindi Non immagino cosa farò Da qui a 5 A 10 anni Però penso che Durante il corso Di miei studi Avrò un'idea E sceglierò in seguito Quindi una passione Che può diventare Il tuo lavoro Il vostro lavoro Sì Dipende tutto Dalla nostra forza di volontà Vedo che ne hai Sì Per ora sì Perfetto Tu hai qualche curiosità Per Carmine Rienzo? Sì All'allenatore Diciamo Lei è stato L'allenatore Appunto nel 2015 Della Juniores Del Campobasso Sul mercato Avete scelto Per lo più Dei ragazzi Molisani Questo per una Questione Prettamente economica Oppure perché C'era Un attaccamento Maggiore Alla maglia No C'era Avevamo fatto Un progetto Di fare un progetto Tutto molisano Quindi La prima cosa Che abbiamo Abbiamo guardato Nel Molise Anche perché Secondo me Ragazzi Ragazzi Nel Molise Ci sono Anche se Vanno stimolati E punzecchiati Una continuazione Però ci stanno E quindi Quello è stato Il progetto In due anni Che poi alla fine Ci ha portato In un campionato A fare I playoff Ad uscire A perdere La finale La finale A Celano E l'anno scorso Siamo arrivati In pratica Quindi in tutta Italia Perché Abbiamo Tutta la Abbiamo fatto Gli ottavi Cioè nel 2015 Quindi perdendo A Sarno Con la Sarnese Che poi Si è giocata La finale Si ricordo Il 2 a 2 In casa 2 a 2 in casa E 3 a 1 Là però Loro avevano Molti giocatori Che Che militavano Militavano In prima squadra Da quella Juniores Molti giocatori Sono stati utili Al campo basso L'anno scorso I vari Corbo Martinelli Da Versa Di Genova Perrello Sono tanti E quindi Corbo e Da Versa Stanno giocando Ad Agnone E altri ragazzi Ieri titolari Anche la prima giornata Credo Quindi insomma Si potranno fare Le ossa Ad Agnone Il cosiddetto minutaggio Che sicuramente Potranno accumulare Proprio in Alto Molise Eccellenza Allora cominciamo Con la carrellata Di servizi Da quale cominciamo Cecilia Gianni Noi abbiamo sentito Innanzitutto L'allenatore Dell'Isernia Mister Di Rienzo E l'allenatore Del Gambatesa Mister Barrea Mister Fabio Di Rienzo Primo successo Per l'Isernia Un po' di fatica Nel primo tempo Poi siete venuti fuori Alla distanza Sì Abbiamo fatto Secondo me Una buona gara Calcolando che era la prima Su un campo non facile Ottimamente allenato Da Mister Barrea E con ottime individualità Primo tempo Abbiamo fatto Un'ottima fase di possesso Fino alla tre quarti Ci siamo persi Un po' negli ultimi 30 metri Una finalizzazione Un po' sterile Che ci ha portato A soffrire un po' Molto meglio Nella ripresa Con gli esterni Che sono stati incisivi Dal fondo E peccato Per gli ultimi 10 minuti Dove abbiamo rischiato Qualcosa di troppo Lavoreremo in settimana Su questo aspetto Mister Barrea Gambatesa K.O. A testa alta Alla prima di campionato Contro una delle favorite Alla vittoria finale Isernia Soddisfatto? Non posso essere soddisfatto Di una sconfitta Assolutamente Che alla fine È il risultato Quello che conta Però Ho visto delle buone cose Dal punto di vista Della mentalità E dell'idea di gioco Della determinazione Da parte dei ragazzi Comunque ce la siamo giocata Con l'Isernia Che è una signora squadra Con degli elementi Che sicuramente Fanno la differenza In questa categoria Da questo punto di vista Sono parzialmente soddisfatto Naturalmente c'è tanto Da lavorare Per sistemare ancora Diversi automatismi Per insegnare ancora A tanti ragazzi Come sistemarsi in campo Però c'è tempo E penso Che questa squadra Abbia dei buoni margini Di miglioramento Prossimo turno Isernia Vulcania Campo basso 1919 Gambatesa A proposito di queste due squadre Credo che il Gambatesa Abbia fatto soffrire Dal servizio L'Isernia Carmine Rienzo Sì Da quello che ho visto Da quello che È stata una partita Una vittoria Importante per l'Isernia Però sofferta Ed è stato Sono state Quella è la mentalità giusta Che deve avere il Gambatesa Per non commettere gli errori Che ha commesso L'anno scorso Niccolò Manfredi Selvaggi Questo progetto Drone Lab Che riscontro sta avendo? Innanzitutto Quando lo avete Partorito? Sì Lo abbiamo partorito Pochi mesi fa È una cosa che è nata Prima in piccolo Poi sempre più in grande Fino ad arrivare Al meeting di Rimini Che è una fiera C'è stata a Rimini A fine agosto In cui abbiamo Potuto esporre uno stand E spiegare il nostro progetto E i feedback Sono stati positivi Sia dal punto di vista Del pubblico Che abbiamo trovato Un sacco di gente Molto interessata Che faceva domande Sia dal punto di vista Dell'impatto che stiamo avendo E quindi questo ci spinge A andare avanti Ancora con più Forza di volontà Abbiamo parlato di una convenienza economica Per l'utente Ce la vuoi spiegare In maniera proprio pratica? Sì Ogni cosa Ha bisogno di essere commercializzata Sul mercato Uno può fare anche Una scoperta geniale Ma se non si può vendere Perché costa troppo È inutile Quindi questi droni Quando per progettarli Servono impianti Sensoristici Da decine di migliaia di euro L'invenzione è stata fatta Ma non serve a niente Diciamo Quindi quello che dobbiamo fare noi È renderla A livello commerciale A poco prezzo Lo possiamo Ecco proprio Non vorrei chiedere proprio Banalmente quanto costa Però dov'è la convenienza economica Del vostro drone? Possiamo fare un rapporto Sì Con le aziende americane A cui alludevi prima? I costi siamo a meno Dici volte di meno Perfetto Quindi insomma È molto commerciabile Abbiamo usato Abbiamo usato I stessi sensori ultrasuoni Che si usano nell'auto Per il sensore di parcheggio Ho capito Quindi dispositivi molto Alla portata di mano Perfetto Gianni io volevo chiedere Un'altra cosa Nicolo Sono molto molto interessata A questo argomento Ho letto una tua intervista In cui tu dicevi Che assieme ai tuoi compagni Naturalmente State svolgendo degli studi Per implementare il drone A guida autonoma Siccome per noi è arabo Naturalmente Volevo chiederti Cosa significa precisamente? Semplicemente questo Quando un umano guida un drone Può vedere dove il drone Si trova nello spazio E quindi può impedire Di farlo sbattere contro le pareti Ma quando uno toglie Il pilota umano Non ci sono più occhi Che possono vedere il drone dove va Quindi abbiamo bisogno di tutti i dispositivi Che ci permettono di dire al drone Dove si trova in ogni istante E dove si trovano gli ostacoli Quindi al drone Ci devono stare dei sensori Che misurano la distanza dal pavimento La distanza dalle pareti La distanza dagli ostacoli Tutte queste cose Devono lavorare contemporaneamente E comunicare con un algoritmo sul computer Quindi il computer E il cervello del drone E questo cervello Deve dire al drone Come muoversi Per non andare a sbattere E per svolgere il compito Ok L'uomo non deve fare nulla Deve solo premere play Perfetto Facilissimo È semplicissimo Detto così sembra difficile Invece devi premere play Semplicemente play Benissimo Questa è la risposta che voleva dare Nicolò In poche parole Sì Perfetto Semplice ma efficace Nicolò Manfredi Selvaggi Noi saltiamo in eccellenza Molisana Saltiamo in eccellenza E ascoltiamo Antonio Crudele Direttore sportivo del Vasto Girardi Scusami se ti interrompo La partita è Vulcani a Vasto Girardi E in settimana Nel corso dei DG Sport Sicuramente sentiremo anche Un esponente Sentiremo anche le controparti Sì Della Vulcania Antonio Crudele Direttore sportivo del Vasto Girardi Prima giornata Primo brindisi Ovviamente Avete affrontato una neopromossa Insomma un campo Forse difficile Ma eravate comunque favoriti Insomma secondo i pronostici Era importante partire con il piede giusto Sì hai detto bene Era importante partire col piede giusto Anche se è stata una gara difficile Complicata per certi versi E comunque siamo soddisfatti Di come abbiamo approcciato Insomma questa gara Conoscevamo poco i nostri avversari Avevamo comunque tanto rispetto per loro E siamo felici di questa vittoria Di questi primi tre punti Ecco abbiamo visto che il mister Grossi Ha comunque adoperato Ha sfruttato al massimo Tutte e cinque le sostituzioni Questo magari agevola anche Il lavoro degli under Per un discorso anche di autostima E per mettersi in mostra Sì è vero Quest'anno c'è questa nuova regola Che ci permette di fare cinque cambi Mister Grossi l'ha sfruttata Tutta Quindi hai detto bene C'è modo anche Insomma per Per gli under Per tanti under Di mettersi in mostra E di avere la possibilità di giocare Abbiamo detto che il Volcania giocherà a Disernia E Bastogirardi Spinete Carmine sentendo Nicolò Piccoli molisani crescono non solo a livello calcistico Di solito la diciamo per i calciatori In erba Però piccoli talenti anche dal punto di vista cerebrale Fa enormemente piacere Perché una regione Quando si sente un ragazzo Che fa queste invenzioni Fa queste cose Fa non altro che Che fare piacere Di queste invenzioni che lui ha fatto E ci inorgoglisce di essere molisani Complimenti a Nicolò Manfredi Selvaggi Al tuo staff Però non vediamo che tradisci troppe emozioni Quindi sei proprio Come dire Calato nella realtà Anche perché è in divenire questo progetto Sì anzi siamo all'inizio Quindi penso che Il bello deve ancora venire diciamo Ma siete soddisfatti? Per ora sì Perché appunto Nonostante siamo all'inizio Stiamo andando avanti molto velocemente Abbiamo avuto per adesso Un discreto successo Come commentate fra di voi Insomma questa Anche perché Sarà nata come dire Da una chiacchiera qualcosa Sì da un'amicizia Appunto perché Abitiamo insieme nello stesso collegio Si va a cena insieme E quindi da un'amicizia è nata E da una passione comune diciamo Come una sera Stavate a cena Perché non proviamo così? Non conoscevo neanche il ragazzo Che ha dato via il progetto Per un semplice una chiacchierata Mi è prima diventato amico E poi collega diciamo Perfetto Noi continuiamo con la rassegna Di servizi Del campionato di eccellenza Tocchiamo il campo di pietra Che ha perso in casa Contro il sesto campano Cecilia Abbiamo ascoltato Gianni L'attaccante del sesto campano Capaccione E poi l'allenatore Del campo di pietra Mister D'Aversa Francesco Capaccione Attaccante del sesto campano Dunque Miglior esordio Non potevate Sicuramente immaginarvelo Perché sono arrivati Tre punti comunque Importanti in avvio È sempre un'ottima cosa Partire con il piede giusto Oggi ci siamo riusciti Venivamo su un campo Difficile Sapevamo di incontrare Una squadra importante L'anno scorso Già Perdemmo Una delle peggiori partite Forse Del campionato Oggi siamo venuti qua La prima Siamo riusciti a vincere Questa partita Per noi è molto importante Mimo D'Aversa Dunque Arriva alla prima sconfitta In campionato Sicuramente Ai punti Avreste meritato Il pareggio Almeno Per la prestazione Che avete fatto Però insomma Le occasioni vanno anche Capitalizzate Sì Il succo Sarebbe questo Però poi si va anche oltre Perché La partita poi si svolge Non solo Per le proprie misure Ma Spesso per una Gestione complessiva Avversario E chi gestisce Poi tutto il contesto Della gara Sì E dunque Un primo tempo Così così Poi nella ripresa Siete venuti davvero fuori Paradossalmente Abbiamo avuto più occasioni Il primo tempo Soltanto che adesso In questo periodo Abbiamo poca lucidità davanti Però Non è un problema Di occasione Oggi i ragazzi Hanno Dato tutto Quello che avevano dentro Ci siamo espressi Anche A discreti livelli Però purtroppo C'è stato Un Un parametro Diverso Di gestire La partita In eccellenza Carmine Rienzo Dove collochi Il campo di Pietra Il campo di Pietra Ha un bello organico Oltre ad avere Zurlo Guglielmi Gianluca Nardacchione Gianrusso Che non dimentichiamo Che è un ragazzo Che ha fatto Oltre 50 presenze Ad Agnone Cappelletti Ivano Borrelli Gilberto Fratangelo Che è una squadra È una squadra Molta esperta Tra virgolette Quindi è una squadra Che si potrebbe posizionare Nelle zone alte Della classifica Anche se Sabato sono stato A vedere la partita Lì davanti Sono stati Molto confusionari E anche se sfortunati Perché Diciamo I punti Meritavano Perlomeno Il pareggio Però Ho visto Là davanti Una squadra Molto confusionare Ancora con le idee Poco chiare Però Penso che un mimbo Da Da buon allenatore Risolverà i problemi Ecco Nell'intervista Il destinatario Delle sue parole Era l'arbitro Probabilmente Penso di sì Perché c'è un episodio Del secondo tempo Che ha coinvolto Carmine Guglielmi E Cappelletti In un fuorigioco dubbio Quindi io stavo Dall'altro lato Della tribuna A me a prima impressione È apparso dubbio Che c'era E non c'era Il fuorigioco Quindi Questo Penso che sì Lo abbiamo analizzato A Domenica Sport E tra l'altro Era il 91 Credo Sì sì Era la fine Quindi questo E poi Questo è stato Diciamo in pratica L'arbitro è stato Sempre vicino Alle azioni È normale Che poi qualche errore Lo commetti A volte a favore A volte contro Però ci sta Questo sia stato Secondo me L'episodio determinante Dove Dove Mimmo Si riferiva Ecco In maniera criptica Probabilmente Quello voleva Intendere Domenico Quello là Allora Si avvicina Quasi Il top e flop Ci siamo quasi Ci siamo Però prima Dobbiamo ancora sentire Alcune interviste Anzi Un'altra intervista Dell'eccellenza Ecco Allora sì Una partita non si è giocata A causa vento Sì E noi abbiamo sentito L'allenatore L'allenatore del termoli Mister Longo Mister Franco Longo Partita sospesa Non c'erano i presupposti Per portarla avanti Credo che vada bene Al termoli così Ma veramente Noi volevamo Abbiamo giocato la partita Perché insomma Dopo che ci siamo allenati Tutta la settimana La cosa che ci rimane La domenica Insomma Eravamo carichi Per affrontare questa partita I ragazzi molto motivati Però purtroppo Il tempo è stato così oggi E penso che sia stata La decisione più saggia Praticamente Sospendere questa partita 25 minuti Avete provato A creare qualcosa Però poco avete fatto Perché il vento Era a sfavore Ma noi siamo stati 3-4 minuti Che abbiamo giocato Sulla fascia destra E la palla rimane Pallì Cioè Veramente Un vento incredibile Speriamo che Recuperiamo questa partita Con una vittoria Da poter dedicare Ai nostri tifosi A termoli Che sono a corsi Diciamo Anche abbastanza Numerosi Ci dispiace per loro Ci dispiace per loro Specialmente Ma ci dispiace anche per noi Insomma Perché E' una partita Che volevamo fare Però Pazienza La partita dovrà essere Recuperata Data da stabilire La prossima domenica Abbiamo già detto Campobasso 1919 Gambatesa E Riccia Termoli Allora Quindi abbiamo passato In rassegna Ai servizi Del campionato Di eccellenza Prima di una piccola pausa E poi andremo a fare L'ultima parte Di Molise a calci A Torino Si parla Credo di calcio Nicolò Manfredi Selvaggi Sì E anche abbondantemente Sì Torino Il calcio è molto seguito Soprattutto il calcio di Serie A Infatti Sono due squadre Juve e Torino E' molto vissuto Infatti come si è potuto vedere Dai fatti che sono successi A Piazza San Carlo Qualche mese fa Sì I fatti che purtroppo Sono saliti In cronaca Per la morte Di una ragazza Dopo appunto La finale Di Champions League Tra Real Madrid E Juventus Ricordiamo la calca Di persone Una Una vittima E più di mille Feriti Molti miei amici Sono stati feriti Ma alcuni miei amici Sono andati in ospedale Perché Ma tu eri lì presente? No Stavo studiando No Veramente È stato un caso fortunato Me lo aspettavo Guarda quasi come Come risposta Che stavi facendo Stavi studiando Un sabato sera D'estate si studia Sì Se vuoi essere bravo Gli esami sono Fini a fine luglio Quindi insomma Sei giustificato Conosci più Juventini o torinisti? Juventini Molti penso Perché come ho capito Che vengono a studiare a Torino Anche per la squadra Del cuore Va beh Insomma relativamente Credo Sì relativamente Ma non la nego Come possibilità Diciamo Si dice che a Torino Ci siano tanti calabresi Sì è vero Pugliesi, calabresi E siciliani A Torino Non ho conosciuto neanche Un torinese In due anni Va bene Allora Simpatico Nicolò Noi facciamo una piccola pausa Noi ci fermiamo per un po' Rimanete con noi Sempre qui a tra poco Nel salotto di Molise a calci Allora Cecilia Di nuovo in studio Eccoci bentornati Gianni Bentornati ai nostri ospiti Bentornati ai nostri amici a casa Allora noi procediamo Perché C'è stato materiale Fornito A proposito di Moviola Dai campionati regionali Quindi Sì tantissimo materiale Infatti noi siamo tutti quanti Molto curiosi Adesso ci gustiamo La Moviola In collaborazione con Passo Ripa Limosani Carburanti e lubrificanti Paglione Dal 1952 Ci prendiamo cura Del tuo motore Con le immagini Siamo a Rocca Monfina Dove il vasto Girardi Ha vinto contro il Vulcania Quinto minuto Vedete il fallaccio Del numero 10 Del Vulcania Si tratta di Si tratta di Aurilio Che va a prendere Netta La gamba Di Petrone Siamo in area Quindi questo è calcio Di rigore Tutta la vita Giustamente concesso Dal signor Saluppo Di Campobasso Se andiamo avanti Con le immagini Batte Ruggero Ma è bravo Il portiere Del Vulcania Palmieri Ad intercettare La sfera Siamo agli sgoccioli Del primo tempo Seguiamo il secondo gol Del vasto Girardi Perché hanno protestato Quelli del Rocca Monfina Ma torniamo un attimo dietro Perché nel momento In cui lancia Il pallone Petrone Ecco andiamo avanti Qui Vedete Questi è Petrone Fermiamoci nel momento In cui lo tocca Il momento è questo Vedete che c'è Il difensore In maglia Rosso-blu In area Che tiene Sicuramente In gioco Calcagni Che è l'attaccante Al centro dell'area Con la maglia blu Andiamo avanti Perché poi Calcagni segnerà Protestano i giocatori Del Vulcania Ma a nostro avviso Ha fatto bene l'arbitro E il suo collaboratore Perché la posizione Era regolare A gamba tesa Ha vinto Lisernia Seguiamo il 45esimo Del primo tempo Ha protestato Lisernia C'è questo lancio In area Qui si intravedono I due giocatori Sulla sinistra Del teleschermo Perché Lisernia Ha protestato Per un fallo Presunto di Cucciniello Su Mingione Le immagini Non sono chiarissime Vediamo soltanto Mingione Che è il giocatore Con la maglia rossa Che frana a terra Probabilmente C'è stata anche Una spinta Da parte del difensore Del gamba tesa Ma ribadiamo Le immagini Non sono chiarissime E ci sembra Veramente difficile Dare un giudizio L'arbitro Il signor Petraglione Ha lasciato Proseguire Al quarantasettesimo Del secondo tempo Accade questo episodio Sicuramente curioso Perché poteva essere Il pareggio Del gamba tesa Punizione di Vinci Guerra Vedete Ci sono due giocatori In maglia Bianco verde Fermiamoci Quando sta per arrivare Il pallone Praticamente Sono da soli Ma c'è il portiere Del gamba tesa Che si era portato In attacco Proprio All'ultimo tentativo Della sua squadra Si tratta Di Capobianco Che vedete Nel tentativo Di segnare Va a togliere Il pallone A Ciarlariello Che era alle sue spalle Suo compagno di squadra Che avrebbe Probabilmente Segnato Davvero Un errore Errore Insomma Si tratta Di un episodio Curioso Perché sicuramente Capobianco Voleva dare una mano A suoi compagni di squadra In effetti Ha tolto il pallone Proprio Dalla testa Di Ciarlariello Undicesimo Del primo tempo Tra Campodipietra E Sesto Campano Se ne va Marra Entra in area di rigore Recupera Su di lui Si tratta Di Cecchino Andiamo un attimo dietro Proprio sotto gli occhi Dell'arbitro Che è il signor Vasile Di Isernia Seguiamo in azione Di Marra Vedete L'arbitro È a un metro Non fa fallo Cecchino Marra Si lancia A nostro giudizio Ha fatto benissimo Il signor Vasile Di Isernia Ad ammonire Marra Per simulazione Il gol Dell'FC Molise Contro il Termoli 2016 Andiamo un attimo dietro Perché Quando batte il calcio Di punizione Tripodi Sulla sinistra Del teleschermo Vediamo Un giocatore In maglia scura Si tratta Di Furgoli Che Trattiene Cioffi Cioffi Cade a terra Vedete Il giocatore Sull'estrema sinistra Del teleschermo C'era il fallo Perché Secondo me Furgoli Ha cinturato Cioffi L'arbitro Il signor Mastroianni Di Isernia Ha visto questo intervento Era posizionato Anche bene E ha concesso Secondo noi Il giusto calcio Di rigore All'FC Molise Andiamo avanti Perché poi Dagli 11 metri Va a battere Tripodi E In sostanza Il primo tiro Viene intercettato Dal portiere Avversario Vedete Ma poi Tripodi Raccoglie la sfera E segna Il gol Dell'1 a 2 Infine Decimo Del primo tempo A Castelmauro Torniamo dietro Perché è tutta qui L'azione Vedete Caputo Giocatore in maglia Bianco-verde Del Castelmauro Che spintona Affossa un tantino Il difensore Del Pietra Montecorvino Si tratta Di Barchetta Vedete Con il braccio sinistro Vedete Lo affossa un attimo Questo A nostro avviso È fallo Perché gli frana In qualche maniera Addosso Poi Caputo Si avvicina Alla porta avversaria In sacca Anche un bel destro Ma il gol È stato annullato Per fallo Precedente Ora mi concentrerei Su Gambatesa Isernia Ha chiesto Un calcio di rigore Senza la concessione Del signor Petraione L'Isernia Fallo Presunto tale Di Cucciniello Numero 2 Del Gambatesa Che è un under 99 Se non sbaglio Su Mingione Tu che cosa hai visto Lì Carmine Io penso che Mingione Non vedo il motivo Perché debba buttarsi a terra Quindi stava ricevendo la palla Secondo me l'ha toccato Può darsi pure Che Mingione Abbia Accentuato la caduta Però è dubbio Perché le immagini Le immagini Non sono molto chiare Quindi La sensazione La sensazione Secondo me era rigore Era calcio di rigore Mentre Nicolò Da parte tuo Un commento Sull'occasione finale Del Gambatesa E' andato il portiere in aria Ovviamente Quando va il portiere in aria Episodio rarissimo Perché vuole dare Un uomo in più Una mano Alla propria squadra Ha finito con il togliere Dalla disponibilità Di due suoi compagni Il pallone Del possibile pareggio Sì Le intenzioni su erano buone Purtroppo In queste azioni Si vede spesso Che un giocatore Toglie la palla un altro Quindi Purtroppo è la sfortuna Ecco Anche perché Credo Al 90% Avrebbero Non dico segnato C'era una possibilità Probabilmente maggiore Per Ciarlariello Di segnare Rispetto a quella Che ha avuto Il portiere Capobianco Se è stata cattiva O buona Buona Però adesso valuterete voi Addirittura Sì addirittura Lo so che stai aspettando Questo momento Dall'inizio della puntata Ed è arrivato Adesso ci vediamo Il top e flop Top al portiere Del sesto campano Russo Che compie Un intervento Davvero felino Sulla girata Di Zurlo In area di rigore Il campo di pietra Sbatte contro L'uno ospite Che blinda La propria porta Flop Da ritrovare In Pineto San Marino I locali Sono sotto Per 1 a 0 E collezionano Occasioni Da gol Clamorosa Quella spedita Sopra Alla traversa Da Pomante Che secondo Il nostro modesto Parere Merita tutta La bocciatura Di giornata Allora Luca Russo Portiere De Exacli Del sesto campano Ha meritato Il top di giornata Sì 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 Ha fatto Una gran parata Una gran parata E non solo quella Ha fatto anche un'altra parata Importante Durante la partita Il flop A Pomante Del Del Pineto Ha sbagliato Carmine sempre a te Sì Ha fatto Un errore clamoroso Ci sta tutto Perché Poteva portare Un bunda a casa Il Pineto E invece Il Pineto Rimane al palo Allora Grazie a Nicolò Manfredi Selvaggi Siamo in chiusura Domani sarai Su un treno Che ti condurrà Da Termoli A Torino Noi ti ringraziamo Per aver partecipato Alla nostra trasmissione Un grandissimo In bocca al lupo Per la tua carriera Universitaria A Torino Ma soprattutto Tanti complimenti Per questa iniziativa Del Drone Lab Che possa portarvi Soddisfazioni Di ogni genere A te Ovviamente Al tuo Gruppo di lavoro Grazie mille Grazie a te Presto su una panchina Speriamo Grazie a voi Solo un minuto Volevo fare Gli auguri In bocca al lupo A tutta la testata Giornalistica sportiva Soprattutto per Domenica Sport Per le 1100 puntate Del direttore Antonio Di Lallo Quindi è una cosa importante Per tutti noi sportivi molisani E che continuasse così Quindi Auguri di nuovo In bocca al lupo Va bene Grazie per gli auguri E gli auguri per Domenica Sport Ovviamente Grazie a Cecilia Di Lauro Grazie Gianni Come la settimana scorsa Una grande compagna Di avventura E tu per me Io ti ringrazio Ringrazio i nostri ospiti Ringraziamo tutti quanti I nostri amici a casa E noi ci vediamo lunedì Sempre alle 21 Un bacio Buonasera a tutti A Civitanova del Sannio Grazie a tutti.